Se uso questo termine della morte per cui chi muore non può più comprare nulla, per cui la morte viene nascosta, il dolore viene nascosto, non viene raccontato, la mia generazione non ha raccontato il dolore ai nostri figli, per cui se non lo conoscono, se non sanno anche la potenza, non riconoscono che è parte della nostra vita, che è inevitabile, però è proprio da lì il problema, dal dolore, da quello che manca, che lo possiamo trasformare in un'opportunità di cambiamento, di che cosa stiamo parlando, che cosa stiamo chiedendo loro, di costruire su cose che non esistono, il successo, l'immagine, l'influenza, il numero dei follower, ci pensate, sono cose che non esistono, sono cose completamente intangibili, che nella realtà non ci sono, nella realtà c'è ben altro, ma vince la narrazione sulla realtà.